e parliamo dei difetti degli uomini e delle donne e vediamo chi c'ha ragione allora, no, 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 allora, abbiamo detto che le decisioni riguardo a questo spettacolo le prendevamo insieme eh, insieme come dico io allora, per te, tra l'uomo e la donna chi comanda? l'uomo da sempre tra l'uomo e la donna chi comanda? allora, allora, lo dice la Bibbia allora, da Adamo e Eva comandava Adamo no, tra Adamo e Eva comandava Eva ma quando fai? la sai la storia da Adamo e Eva? certo mi dice che non la sai ma te la conto io allora, vedete se vi trovate il genere umano discende da Adamo e Eva e già non mi trovo che il genere umano discende dalle scimmie no, che la famiglia Giorgio